La genitalità diciamo che sono due, la sessualità sono sei miliardi cara signora, sei miliardi perché lei pensa di essere solo donna, lei pensa di essere solo donna, e allora accetti il maschile che c'è dentro di lei, io non sono solo uomo, io sono anche molto donna, e allora non ci sono due i gender, è una cosa da ottocentesca.